Il primo momento è ripreso ad allenarsi nonostante il campionato di Serie A abbia avuto il suo epilogo domenica scorsa. La decisione era stata già presa dalla società e coinvolge quei calciatori che non hanno accettato la spalmatura degli emolumenti relativi al primo trimestre 2011. Si alleneranno sino a metà giugno e non più fino al 30 giugno come la società aveva fatto sapere in un primo momento. Questo per garantire il mese di ferie prima della ripresa della preparazione. All'appello ieri non ha risposto il solo raggi ma la sua assenza è giustificata da ragioni familiari. Per i calciatori sotto contratto che da infortunati non si sono presentati all'appello della scorsa settimana invece la società ha inoltrato il deferimento alla Lega Calcio con l'ipotesi di una pesante multa. Per quanto riguarda il ritiro infine il Bari sta valutando alcune offerte pervenute da località del Friuli e del Trentino che ridurrebbero a zero i costi per la preparazione estiva.